Lavora sempre sulle cose piccole, sfrutta, utilizza i piccoli dettagli e perfezionali. In un'intervista Al Pacino disse, io se lavoro bene un personaggio, ma lo lavoro fino in fondo, li so lavorare tutti. Ecco, questo vale non soltanto per lo studio di un personaggio, e dunque poi dei personaggi di riflesso, ma vale per lo studio di qualsiasi minima abilità che tu metterai in piedi e perfezionerai. Perfeziona i piccoli dettagli, parti da una cosa che sai fare, poi parti da una cosa che sai fare peggio, ma perfezionala, curati del dettaglio. Saper fare una scena in cui bevi un caffè non è così semplice, perché occorre avere la voglia di prendere quel caffè, quel caffè potrei prenderlo perché ne ho bisogno, fisiologico, di caffeina, devo svegliarmi, oppure posso prendermelo perché è un modo per stare insieme ad altri, oppure posso prendere, penso alla serie Friends, dove ne berranno centinaia di caffè. È un modo per stare con gli amici, è un modo di dialogare, è un modo di giocare insieme ad altri, è un modo per stare insieme. Per cui dietro un piccolo dettaglio poi si nascondono anche dei mondi emotivi. Lavora sul piccolo, piccolissimo dettaglio. Non guardare la cima, lo sai che vuoi arrivare lassù, però non preoccupartene, tu lavora sul dettaglio, non cercarti la grande emozione, la scena più difficile, cerca cose piccole, lavora da quello, parti con i piccoli mattoni e costruisci l'intero edificio. Ma prima parti dalle cose piccole e continua a lavorare sulle cose piccole pure quando andrai avanti. Cristiano Ornaldo fa così, lavora sulla tecnica di base nonostante sia un fenomeno, perché questa cosa lo aiuta a fare poi le cose difficili con maggiore destrezza. Per cui segui quella strada, diventa maestro delle cose piccole, quelle grandi vengono da sé.